Il sorriso di un padre che abbraccia figli in difficoltà. È la carezza che Papa Francesco ha riservato ai detenuti della casa di reclusione di Paliano, in provincia di Frosinone, nel giovedì santo. Qui ha celebrato la messa in cena a Domini, inizio del triduo pasquale, e nell'Omelia ha ricordato che Gesù, anche nel momento del tradimento, ha amato, dando la sua vita per noi, nonostante i limiti, i difetti e i peccati. Tutti sappiamo amare, ha aggiunto il Papa, ma non siamo come Dio che ama senza guardare le conseguenze fino alla fine. Lui che era il capo si è messo a lavare i piedi, a servire per farsi schiavo per noi, per amare, fino alla fine. Vi dirò che se voi potete fare un aiuto, un servizio al tuo compagno qui in carcere, alla tua compagna, fatelo, perché questo è amore, questo è come lavare i piedi, essere servo degli altri. Una volta i discepoli litigavano fra loro sopra chi fosse il più grande, il più importante. E Gesù dice, quello che vuole essere importante deve farsi il più piccolo e il servitore di tutti. E questo è quello che ha fatto lui, questo che fa Dio con noi. E ci serve, è il servitore. Tutti noi che siamo poveracci, tutti. Ma lui è grande, lui è buono. E lui ci ama così come siamo. Nel corso del rito il Papa ha lavato i piedi a 12 detenuti, tra i quali tre donne e un musulmano che sarà battezzato a giugno, un argentino e un albanese. Tre reclusi, due sono condannate all'ergastolo e tutti gli altri dovrebbero finire di scontare la pena tra il 2019 e il 2073. Grazie. 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 Grazie.